Ciao a tutti, è tornata la rubrica i tre dischi adatti per e oggi vi consiglio i tre dischi adatti per spaccare tutto, quando siete proprio incazzati, avete un attacco di nichilismo ecosolidale ecco, volete spaccare i piatti, litigare, però magari ci tenete all'argenteria allora volete spaccare tutto metaforicamente e come al solito vi lascio titoli e link nell'info box e iniziamo subito il primo disco che vi consiglio per spaccare tutto è ovviamente The Mysterious Dom Satanas The Mayhem, grandissimo, enorme, album di black metal opprimente, cupissimo, con dei riff taglienti, straordinario, bellissimo io lo metto su e mi gaso come, non lo so, veramente cioè poi è, basta, cioè è bellissimo, bellissimo perché mentre Burzum, per quanto sia per quanto sia allo stesso modo come si può dire, il sublime Cantiano, no? quando ti immergi in un'aurea di... di... non lo so, non so neanche spiegarlo però comunque Burzum è molto più atmosferico anche se è comunque cattivo, no? idem i Darkthron, idem altri gruppi di black metal, no? anche i Mayhem sono abbastanza cupi, atmosferici, no? però allo stesso tempo hanno dei riff estremamente violenti che mi gasano tantissimo e quindi ve lo straconsiglio poi è un album fondamentale perché apprezza certe sonorità il secondo album che vi consiglio, capolavoro assoluto è Torture Garden dei Naked City i Naked City sono un progetto guidato dal grandissimo John Zorn musicista jazz d'avanguardia che fondando i Naked City riesce a fondere il jazz con il grindcore e quindi sono una quarantina di canzoni per una durata di 20 minuti di album quindi delle schegge impazzite, violentissime fuori controllo che ti fanno esplodere il cervello e che io adoro la follia l'ultimo album che vi consiglio molto opprimente molto cupo pesante grezzo crudo è Filth l'album di debutto degli Swans nonché il mio preferito degli Swans quando proprio erano ancora esenti un po' da quest'aurea di sperimentazione ma allo stesso tempo picchiavano pestavano duro come niente straordinari questi sono i tre dischi che vi consiglio per spaccare tutto ci sarebbero altre cose da consigliarvi ad esempio io vi consiglio i Plebeian Grandstand che sono un gruppo avant-garde metal post-hardcore oppure anche gli italiani OVO possono essere una una buona scelta ma ditemi voi cosa ascoltate quando siete incazzati e volete spaccare tutto io vi saluto alla prossima ciao ciao